Nasce il Borgo di Montauro, un progetto di rinascita per l'entroterra calabrese, con la firma dell'accordo tra il Comune di Montauro, rappresentato dall'energico sindaco Giancarlo Cerullo, e il gruppo Booking di Torino, presieduto dal vulcanico Annibale Notaris, tra le altre cose editori di radio e televisioni e titolare di molte strutture ricettive. Questo accordo sancisce l'inizio ufficiale del progetto di riqualificazione degli antichi borghi calabresi mediante un approccio innovativo, l'albergo diffuso. Il primo nucleo di questa rivoluzione prende forma nel suggestivo Borgo di Montauro, situato nella provincia di Catanzaro, grazie al dialogo costruttivo con l'amministrazione comunale, il progetto si articola in un ambizioso piano di trasformazione che prevede la creazione di nuovi posti letto, una spa, un ristorante di alto livello, un caffè letterario, un'area shopping di prodotti tipici, nonché una serie di servizi complementari quali gelaterie, pub e intrattenimento, tutti volti a valorizzare l'enogastronomia locale e le tradizioni del territorio. Il gruppo Booking per la realizzazione del progetto si avvale da tempo di preziosissimi collaboratori, l'architetto Gennaro Pileggi per la progettazione e riqualificazione degli immobili e per la direzione del progetto dal dottor Fabio Grande e dei suoi collaboratori. Ciò che rende questo progetto ancora più rilevante è l'utilizzo di immobili comunali in seguito a una convenzione con lo stesso comune e l'acquisizione di molti edifici privati da parte del gruppo Booking, dimostrando un impegno concreto verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico del territorio. Le attività di riqualificazione sono già in corso, testimoniando la determinazione e la prontezza d'azione del gruppo Booking e dell'amministrazione comunale di Montauro. Al centro di questa iniziativa c'è la promessa di una crescita occupazionale significativa, offrendo opportunità di lavoro in un territorio che rischia l'abbandono e la desertificazione. La creazione di posti di lavoro non è soltanto un obiettivo economico, ma anche un passo cruciale verso la tutela e la valorizzazione delle comunità locali, preservando la loro identità e promuovendo uno sviluppo sostenibile. Il presidente Annibale Notaris e il sindaco Giancarlo Cerullo incarnano un partenariato che va oltre la mera collaborazione tra enti pubblici e privati. Essi simboleggiano un impegno condiviso verso il miglioramento del territorio e il benessere delle sue comunità, trasformando Montauro e prossimamente altri borghi calabresi e non in destinazioni turistiche di eccellenza capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo.